Domenica 3 febbraio grande successo di pubblico al Bocciodromo di Moglie per il terzo trofeo Il Mosaico. Sta per concludersi il terzo trofeo Il Mosaico, gara regionale di bocce, organizzata dall'associazione bocciofile Armano Campanelli. Una manifestazione riuscita molto molto bene, sia per quanto riguarda la partecipazione degli atleti, con oltre 440 coppie, e riuscita bene sotto l'aspetto del pubblico che ha assistito con animazioni alle fasi finali che si sono svolte qui ai locali della bocciofila. Devo dire che come Presidente sono rimasto veramente soddisfatto da questa organizzazione, un grazie devo dirlo a tutti i componenti del direttivo, ma soprattutto agli sponsor, in modo particolare al Mosaico, che sponsorizza questa manifestazione. Volevo ricordare che alla premiazione delle fasi finali sono intervenuti anche le autorità locali, il sindaco, l'ingegnere Giancarlo Garbini, il vice sindaco, l'ingegnere Umberto Mizioli, presidente provinciale della Federazione Italiana Bocce, e il commissario straordinario, sempre per la Federazione Italiana Bocce e regionale, Olivio Togni. Grazie a loro per la partecipazione e ringrazio anche la signora Priori, la quale è intervenuta in memoria del marito, e che in questa gara anche ricordiamo noi come atleta prematuramente scomparsa. Quindi rinnovo ancora i complimenti e ringrazio ancora tutti coloro che hanno partecipato affinché questa manifestazione riuscisse nel modo migliore. Grazie. Grazie.